Nella settimana dal 12 al 18 febbraio l'attrezzatissima Sala Biliardi del centro Hauser di Sermide ha ospitato la quarta prova del campionato regionale Emilia-Romagna di biliardo a sticca. L'hauser di Sermide è stata scelta per l'effettuazione di questa quarta prova di campionato in virtù della attrezzatissima Sala Biliardi che consente lo svolgimento contemporaneo di sei incontri e per la completa accoglienza che può essere riservata ai concorrenti. Mi chiamo Sergio Mario, sono il direttore di gara qui della quarta prova del campionato regionale che si è tenuta qui a Sermide. C'è stata una folta partecipazione di atleti da tutta l'Emilia-Romagna, 206 partecipanti. L'organizzazione è stata fatta qui dal CSB Servide Hauser e direi eccellentemente sia sotto il lato organizzativo che di impegno profuso. Le gare si sono svolte regolarmente e abbiamo avuto una folta partecipazione di pubblico, cosa che è difficile vedere poi in tante sale. Si sente che qui il biliardo è particolarmente visto sotto una forma sportiva ma anche di connubio tra persone. Cosa dire? È stata la mia prima esperienza dal direttore di gara che sono stato supportato veramente da tutti i ragazzi qua della società. Grazie a tutti e grazie a Sermide perché credo che una location come questa ce ne siano poche veramente in giro. Molto soddisfatto il gruppo biliardo dell'Hauser Sermide per la riuscita della manifestazione che ha richiamato un nutrito gruppo di appassionati spettatori a seguire per l'intera settimana le performance dei tanti atleti. Il gruppo di atleti sermidesi è ben rappresentato da Gabriele Piva. Organizzata dalla federazione che ha assegnato al CSB Sermide Hauser l'organizzazione di questa competizione che ha lo scopo di portare 14 atleti ai campionati italiani assoluti a San Vensain. Siamo veramente fieri che Sermide, soprattutto il centro Hauser, possa avere una sala di questo tipo che ci permette di avere una grande visibilità nella regione Emilia-Romagna. I vincitori della quarta prova del campionato regionale Emilia-Romagna sono stati rispettivamente. Per la terza categoria primo classificato Francesco De Lucia, secondo classificato Alessio Coreggioli. Per la seconda categoria il primo classificato è Marco Merloni, secondo classificato Sergio Boccaletti. Per la prima categoria il primo classificato è Emiliano Minghetti e il secondo Gabriele Piva. È stata organizzata, secondo me, nel migliore dei modi, una grande dedizione dei volontari della Hauser, di noi tutti atleti, nel far sì che questa manifestazione bellissima abbia avuto questo grande successo.